William e Kate seguono la regola. Mostrare, non raccontare, ma i fan chiedono di vederli e ascoltarli di più. Il principe William e la principessa Kate vengono regolarmente visti in giro per gli impegni reali, ma lo sono noti per il loro stoico silenzio. Ma questa settimana è emerso un tono nuovo. Quando la coppia ha pubblicato un video tramite i social media di Prince e Princess of Wales su X e Instagram, nel video, Kate e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, danno una mano alla banca dei bambini, esaminando le donazioni, scegliendo i giocattoli, impacchettandoli, e avendo divertente mentre lo fai. Le co-conduttrici di Royally Obsessed, Rachel e Roberta, sono state così soddisfatte dell'uscita che l'hanno aggiunta alla loro lista di argomenti di cui discutere nell'episodio di questa settimana. Entrambi hanno elogiato l'evento e come è andato bene. Ma sono rimasti a chiedere di più. Con Roberta che ha detto i reali non possono più essere star del cinema muto. Kate si tira sulle maniche per mettersi al lavoro e i bambini sono altrettanto entusiasti di esaminare i giocattoli e di contribuire a creare sacchetti regalo. È stata una giornata di successo. Ma Roberta si chiede se il dramma dell'anno passato potrebbe, mettere in ombra, il lavoro che stanno facendo William e Kate. Dice a Rachel. Penso che sia così interessante. La cosa del mostrare non raccontare, racchiude tutto questo dramma, le conseguenze di Endgame, ma non solo, ma Ferry e Megan, e tutto il 2023, e tutto il 2022, e Sper, e tutto il resto, il dramma mette in ombra quello che stanno facendo. Rachel ha risposto. Kate e William dovrebbero essere là fuori, a realizzare più di questi video, a coinvolgere i bambini, a far vedere alle persone come il loro lavoro influisce sul pubblico o nel Regno Unito.